Una bambina che oggi va a scuola domani sarà una donna più forte che proteggerà meglio i suoi figli anche dalle malattie. Puoi voltarle le spalle oppure puoi decidere di cambiare la sua vita donandole la possibilità di andare a scuola. Aiuta UNHCR a mandare a scuola tante bambine. Dona al 45588. Bastano solo 2 euro per garantire un mese di scuola a una bambina rifugiata. Mettiamocelo in testa.